Ieri abbiamo visto e abbiamo annunciato che se la nostra funzione è di classe C2, quella formula che ottenevamo dalla differenziabilità si poteva raffinare, cioè si poteva ottenere la formula di Taylor, prima l'ordine 2. Se F appartiene a classe di 2 di A, con 0 di A, la cosa importante è che sia di classe C2. Allora, io posso scrivere che Fx è uguale a Fx di x, con 0, più il gradiente di Fx, con 0, più, oh, fino a qua era la differenziabilità, poi qua c'è la piccola norma di x, con 0, ma io voglio vedere che in realtà posso scrivere anche quest'altro pezzo, più o piccolo di norma x, meno, al quadrato, ok? Allora, prima di discutere, prima di discutere, perché questo sia vero, quindi prima di fare una dimostrazione ancora che incompleta, cioè non riusciremo a fare una dimostrazione completa a questo stadio, perché ci manca, voglio vedere, la funzione composta, non qualcosa che potremmo intuire, ma... Comunque, prima di discutere perché questo sia vero, io però voglio scrivere in un'altra forma, in un'altra forma, ok? In questa stessa forma, voglio scrivere in un'altra forma, perché sarà quello il modo che dimostrerò. Lo voglio scrivere così, Fx uguale Fx, con 0, più somma, modulo di Fx, con 0, alla B, questo poi spieghiamo che cos'è, più un mezzo, scusate, modulo di Fx, con 0, fratto P fattoriale, anche questo diremo tra un attimo che cos'è, x meno x, con 0, alla B, più, o piccolo, di norma di x meno x, con 0, al quadrato P. Io dico che è la stessa cosa. Prima di tutto dobbiamo capire la forma. chi è P? P è un ultimo indice, più 1, più 2, di n. Chi è il modo di P? Lo sappiamo, abbiamo detto, chi è P fattoriale? Per definizione, anche questa è una definizione, è P1 fattoriale per P, P2 fattoriale per Pn fattoriale. Poi, chi è V alla P, dove il V è il vettore V1, questo è uguale per definizione, è uguale a V1 elevato alla P1, per V2 elevato alla P2, per Vn elevato alla Pn. ovviamente, quando qualcuno di questi indici del multindice fosse 0, elevato alla 0 si intende uguale a 1, indipendentemente dalla base, anche se la base fosse 0 si mette uguale a 1. andiamo a vedere che semplicemente ci andiamo a fare un punto, andiamo a sviluppare la formula di sotto e a far vedere che viene esattamente la stessa cosa di sopra. bene. Allora, f di x con 0 ci sta sopra e sotto e quindi è uguale. Allora, chi è? Andiamo a sviluppare per primo questa somma per modulo di P uguale a 1 di Dp fx con 0, ci potrei mettere anche P fattoriale, vedremo perché, o ce lo metto o non ce lo metto, per modulo di P uguale a 1 è la stessa cosa. Allora, quali sono i multindici di modulo 1? se lo metto o non ce lo metto a 1 è la stessa cosa. oppure oppure p uguale 0,1 0,0,0,0 fino a derivare a p uguale 0,0,0 fino a derivare cioè il nostro p uguale a 1 significa che sto facendo le derivate prime fare le derivate prime significa derivare rispetto a una certa variata quindi quanti sono questi multidimici sono n sono n la derivata rispetto a questo qua è la derivata rispetto a x con 1 questa è la derivata rispetto a x con 2 questo corrisponde alla derivata rispetto a x con n ok, quindi qua abbiamo questa somma corrisponde alla somma 2 per i che va da 1 fino a n allora quando prendo il diesimo di questi multidimici corrisponde esattamente alla derivata di e rispetto a x con i nel punto x con 0 poi come dice diviso un p fattoriale ma il p fattoriale secondo voi quanto fa? 1 perché sono o 0 fattoriale o 1 fattoriale quindi siamo fatti tutti 1 quindi p fattoriale non c'è perciò ho detto in questo caso ci si può mettere o non ci si può mettere e poi cosa devo fare? per esempio se io faccio x meno x con 0 alla 1 0 0 0 cosa mi viene? mi viene x con 1 meno x 0 1 o no? perché? perché la prima componente di questo vettore è elevata alla 1 tutti gli altri non ci stanno perché sono elevati allo 0 quindi qua mi viene x con i meno x 0 1 e ho finito e questo che è? non è esattamente il gradiente di f di x con 0 scalare x con 0 vero? quindi come vedete o lo scrivo così o lo scrivo così è la stessa cosa è un altro modo di scriverlo beh qua però sarà un po' uno pezzo sarà un po' più complicato perché? quando abbiamo un modulo del multiindice che è uguale a 2 stiamo parlando delle derivate seconde e questo torna perché effettivamente la matrice è siana e la matrice deve derivare al secondo però uno potrebbe avere dei dubbi perché uno dice qua c'è la matrice è siana moltiplicando il vettore poi scalare con un vettore e il coefficiente è fisso un mezzo invece qua ci sta P fattoriale P fattoriale P fattoriale cambia perché? supponete di avere una derivata pura cioè derivati di due oltre insieme rispetto alla prima variante com'è? tutti gli indici 2 0 0 0 0 quando vado a fare P fattoriale quanto viene? 2 se invece è 0 1 poi quando sto poco di 0 e un altro 1 quanto farà P fattoriale? 1 1 allora uno dice qua non so sicuro dai facciamo il punto e vediamo che è esattamente quello che deve essere quindi adesso andiamo a vedere come sono fatti i moduli i moduli i moduli i moduli 2 perché quindi aggiungi il modulo P è uguale a 2 se è solo 6 o P ha un 2 da qualche parte dove ce lo può avere in tutte le posizioni dal primo fino all'ultimo posto quindi in generale ce lo ha posto iesimo E potrà variare tra 1 ed E oppure P è del tipo 0, 0, 0 poi c'è un 1 poi di nuovo 0 poi c'è un altro 1 poi di nuovo 0 questo 1 lo mettiamo al posto iesimo e questo 1 lo mettiamo al posto iesimo quindi come sarà la situazione? qua sarà la situazione I maggiore o uguale di 1 minore di J perché non posso metterlo allo stesso posto 1 viene prima 1 viene dopo quello che viene prima abbiamo chiamato I quello che viene dopo l'inuncio abbiamo chiamato J minore o uguale di N quindi quando vado a fare un mezzo un mezzo scusate quando vado a fare dP allora somma per modulo P uguale 2 dP F x con 0 fratto P fattoriale per x meno x con 0 alla P cosa devo fare? devo fare due somme prima la somma sui punti indici di questo tipo e poi la somma sui punti indici di questo tipo quindi qua devo fare la somma per i che va da 1 a n quando il punti indici è di questo tipo qua la somma va per i che va da 1 a n e c'è 2 al posto iesimo cosa significa? devo fare una derivata seconda di F fatta rispetto a x con i due volte nel punto x con 0 per cosa devo moltiplicare? poi devo dividere per P fattoriale che fa 2 e poi però per cosa devo moltiplicare? questo diviso 2 lo scrivo fuori in un mezzo e poi per cosa devo moltiplicare? quando vado a fare l'elevamento a potenza x con 1 meno x di 0 a 1 non c'è perché è elevato alla 0 il secondo non c'è perché è elevato alla 0 x con i meno x di 0 i c'è ma non è solo elevato alla 1 è addirittura elevato alla 2 quindi corrisponde esattamente a questa sommatoria poi però c'è un'altra sommatoria la sommatoria relativa agli indici di questo tipo allora questa è una sommatoria doppia perché qua variano sia i che j quindi devo fare una sommatoria per i che va da 1 a n-1 perché n non può essere perché sono j non c'è posto per la sommatoria per j che va da i più 1 fino ad n perché j deve essere maggiore di i quindi nel momento che ho fissato i j può variare in qualunque posto che vada dall'ipiunesimo fino all'enesimo di che cosa? adesso devo fare quando vado a fare le derivate le derivate mi corrispondono mi compaiono la corrispondenza degli indici i e j che sono entrambe derivate una volta quindi in totale ho la derivata seconda di f fatta rispetto a x con i e a x con j nel punto x con 0 per che cosa? per x con i meno x 0 i per x con j meno x 0 j uno dice ma non ti sei dimenticato niente ti sei dimenticato il p fattoriale no il p fattoriale non lo so dimenticato perché po' chiaro? perché quando andate a fare il p fattoriale poi viene 0 fattoriale vengono tutti 1 1 fattoriale 2 vengono 1 il prodotto ok? o però però va bene e questo abbiamo sviluppato questo pezzo più questo pezzo allora per confronto andiamo a sviluppare sopra adesso un mezzo h x con 0 x meno x con 0 scalare x meno x con 0 questo chi è? è un mezzo adesso dobbiamo fare la somma chi è? h x con 0 scalare x meno x con 0 questa è una matrice n per n questo è un vettore n per 1 quindi questo qua è un vettore n per 1 andiamo a calcolare la coordinata iesi quindi diventa un numero allora questo chi è? è il prodotto della riga iesima della matrice per questo vettore quindi devo fare la somma che va da 1 a n di che ci sta nella posizione ij della matrice nella riga i al posto j la derivata seconda di f rispetto a x con i x con j calcolare x con 0 per x meno x con 0 j questo è l'elemento iesimo quindi qua che cosa devo fare? devo fare un mezzo della somma per i che va da 1 a n di h di x con 0 x meno x con 0 componente iesima per x meno x con 0 componente iesima perché se questo vettore lo chiamate v e questo è x meno x con 0 come si va a prodotto scalare? la somma dei prodotti delle componenti omologhe adesso vado a sostituire questa sommatoria e quindi cosa mi viene? mi viene una sommatoria doppia sommatoria per i che va da 1 a n della sommatoria per j che va da 1 a n di derivata secondo di f di x con i di x con j x con 0 per x meno x 0 i per x x i meno x 0 i per x j meno x j fatemi cancello diciamo mettere un po' più a destra di questo pezzo no? lo fa e scrivo x i meno x 0 i per x j meno x 0 questo lo possiamo cancellare perché già l'abbiamo messo ok? e dice ma non mi trovo non mi trovo perché questa è una somma su due indici qua c'è due sommatorie qua c'è l'un mezzo c'è l'acqua e ci deve rimanere ok? eh però se guardiamo con attenzione io qua posso spezzare questa sommatoria in due pezzi una è quella quando io è uguale a j cosa mi viene? quando io è uguale a j viene in sommatoria per i che va da 1 a n derivata seconda di f dx con i due volte perché qua c'è dx con i dx con i qua c'è x con i meno x 0 di a al quadrato ah però è una sommatoria c'è vogliamo fare più la sommatoria un mezzo della sommatoria per i che va da 1 a n della sommatoria per j che va da 1 j diverso da i j uguale 1 n però saltando i x j diverso da i della derivata seconda di f rispetto a x con i rispetto a x con j calcolata in x con i meno x 0 i scusate calcolata in x con 0 per x con i meno x 0 i e secondo me meno x 0 spero che la videocamera mi quadri fino a poi comunque uno dice no no però non ti trovi vedi vedi la somma è la stessa però qua c'hai un mezzo qua c'hai 1 no? mi trovo perfettamente perché? perché questa doppia sommatoria è fatta sui la somma esterna la somma interna è fatta su j diverso da i invece questa sommatoria è fatta su j maggiore di facciamo un esempio prendiamo l'indice 0 1 1 0 0 0 0 questo corrisponde alla derivata rispetto a x con 2 e rispetto a x con 3 derivata di seconda fatta rispetto a x con 2 e rispetto a x con 3 in questa sommatoria qua ci compare una volta sola quando i è uguale a 2 quando j è uguale a 3 e in questa sommatoria qua ci compare 2 volte 2 volte perché siccome i è diverso da j ci compare la derivata di quando i è uguale a 2 j è uguale a 3 ma anche quando i è uguale a 3 j è uguale a 2 e quindi che succede? che siccome questi termini qua compaiono 2 volte li posso e sono tra l'altro uguali perché sono uguali per la derivata rispetto a x con 2 derivata di seconda rispetto a x con 2 e x con 3 e la derivata di seconda rispetto a x con 3 e x con 2 perché sono uguali? per andiamo a scrivere per schwarz sono i termini uguali per schwarz solo che qua sono enumerati tutti quindi te ne devi prima raggruppare quelli uguali e poi dividere per un mezzo qua invece stanno messi ognuno compare una volta solo tra quelli qua ok? siccome ogni termine nel derivata di seconda compare due volte perché la matrice è simmetrica di questi qua beh, allora o lo scrivo così e mi viene due volte per un mezzo o lo scrivo così mi compare una volta e c'è il coefficiente 1 è la stessa cosa quindi quindi qual è il risultato netto? il risultato netto che questa scrittura e questa scrittura sono esattamente danno loro esattamente alla stessa cosa riprovateci a casa e non è che è proibito uno si fa il conto si fa l'esercizio lo fai in un caso particolare no? provate a scriverlo con una funzione di tre varianti provate a scrivere tutti i termini non solo da eh? sono sei in termini del secondo per una funzione di tre varianti ok? e vedete che lo scrivete in un modo lo scrivete nell'altro viene esattamente la stessa cosa per quale motivo è utile questa questa formula qua sono utili tutte e due questa è utile perché ci fa capire come è fatta la struttura di una funzione cioè la costante più il termine del primordi il termine del primordi è un gradiente scalare lo spostamento e il termine del secondo ordine è una forma quadratica nel termine dello spostamento associata alla matrice siana cioè è questa matrice fissa vicina a x con 0 si comporta questa matrice fissa perché è una matrice numerica simmetrica applicata al vettore spostamento poi quello che si ottiene si fa un'altra volta scalare il vettore spostamento quindi era come a plus v quella la chiamate a spostamento chiamate v viene a v scala per v per un mezzo e poi quello che avanza è un termine di ordine superiore al secondo questo è molto importante questa struttura capire la struttura in questo modo per capire poi bene riprendere il discorso sui massi e minimi locali qui invece perché è diciamo utile anche di questa formula beh questa formula come a patto il fatto di aver definito i multi indici a chi ha sommito? a chi ha sommito? a telo questa è telo è telo per il più variante di più variante di n variante allora naturalmente naturalmente quello che io ho fatto non è una dimostrazione dimostra solo che questa espressione è uguale a questa poi vanno dimostrata tutte due però adesso se io volessi ecco lasciamo qua queste espressioni e io volessi scrivere e io volessi scrivere l'analoga di queste formule fino all'ordine k allora supponiamo che f sia di classe ck di a x con 0 appartiene sempre ad a e a è sempre con lo stesso retto di rn quale sarà l'estressione beh se penso di generalizzare quella di sopra sto nei guai perché già nel caso che k c'è uguale a 3 devo ricorrere ai tensori a 3 indici e più in generale ai tensori a che non è un argomento agevole da sviluppare invece se voglio sviluppare quella di sotto scrivere la formula analoga è facilissimo perché qua devo fare la somma per modulo di motivi da 0 fino a k di che cosa? di del p è x con 0 fratto di quattoriato per x meno x con 0 alla p più ovicolo di norma x meno x con 0 alla k e questa è la formula di Taylor con il resto di piano quindi è facilissima esattamente come si scrive la formula di Taylor per una variabile però qual è la differenza? che invece degli indici abbiamo i multi indici perché? perché abbiamo le derivate parziali la somma su che cosa devo fare? fino a dare derivate di ordine k ma le derivate di ordine k come me le ordino col modulo è multi indici il derivato di ordine 0 che è la funzione più il derivato di ordine 1 quello di ordine 2 quello di ordine k e poi quello che avanzerà sarà uno piccolo di norma x meno x con 0 alla k questa è quella con il resto di piano se la voglio con il resto di Lagrange ovviamente l'ipotesi di essere che f sia di classe ck più 1 fino a allora posso trovare f di x uguale la somma per modo che il mutilio è pi che va da 0 fino a k del pi f x con 0 fratto i fattoriali con x meno x con 0 alla k più somma per p uguale k più 1 di dt f x con 0 fratto t fattoriali scusate non x con 0 questo in x per x per x con 0 alla k dove x chi è? beh questo è x con 0 la formula deve valere in un intorno sferico opportuno che è la quella è una palla quindi quindi contiene una palla in quella palla vale questa cosa e se prendo x e la palla dicendo x con 0 di un certo raggio d'erta la cosa vale ma x chi è? è un opportuno punto del segmento che congiunge x con 0 e x quindi x è esattamente la stessa cosa vi ricordate? la derivata k più unesima si calcolava in x dove x era punto intermedio tra x con 0 e x si scrive a fratto k più un fattoriali qua alla k alla p anche qua ok quindi cosa è cambiato? è cambiato semplicemente che gli indici sono stati sostituiti ai multi indici dando la definizione a fortuna di elevamento a potenza con un multi indice e di fattoriali con un multi indice la formula presenta esattamente la stessa tipologia che di della formula di una variata naturalmente fate attenzione che qua il resto non è un pezzo qua quanti ce ne sono? eh tanti perché dovete andare a fare questa sommatoria su tutte le derivate di ordine k più un e le derivate di ordine k più un sottanti eh per esempio se siamo in eh nel caso n uguale 3 e k uguale 2 le derivate terze di una funzione di facciamo anche solo due variabili abbiamo visto che le derivate terze di una funzione di due variabili erano 8 anche se poi quelle diverse saranno allora quelle diverse saranno quelle le due pure poi ci sarà eh sì sono 4 quelle diverse ok se la funzione di tre variabili quelle diverse saranno molte di più che ci saranno eh le eh tre derivate terze pure poi ci saranno eh le sei derivate eh 2 1 0 da una parte vento 2 da una parte vento 1 da una parte vento 0 e quindi sono nove pezzi eh sono tanti questi pezzi perché? perché stiamo una funzione di più variabili allora questa qua ovviamente è la stessa formula ma con il resto di come si chiamava questa? adesso di la chiara? oh quale è facile dimostrare quindi noi non dimostreremo in realtà per adesso nulla quella che è facile dimostrare è questa come si fa a dimostrare? si prege una funzione ausiliaria g t uguale f di tx più 1 meno t x con 0 allora che cosa scopriamo? g di 1 è uguale a f di x g di 0 è uguale a f di x con 0 e quindi io che cosa so? so che g di 1 siccome la funzione per il prodotto di composizione di classe ck più 1 so che g di 1 è uguale alla somma per k che va per h che va da 0 a k della derivata al chesimo di g calcolata in 0 fratto h fattoriale per 1 alla h che non ce lo spiego più la derivata k più 1 di g calcolata in 0 fratto k più 1 fattoriale scusate questa non in 0 ma in un certo segnale lo vogliamo chiamiamolo tx ok per sempre 1 elevato alla k più adesso qual è la dimostrazione la dimostrazione è sviluppare queste derivate e fare questo uguale a questo sviluppare queste derivate e fare questo e questa derivate e fare uguale a questo punto e chi è x x non è altro che tx x più 1 meno tx ok quindi siccome tx in una variabile ci dice che questo è vero per un certo tx noi sappiamo che è compreso da 0 e 1 ma se tx è compreso da 0 e 1 questo corrisponde nella parametrizazione a un punto che sta su questo questo punto è esattamente x ok quindi se io sviluppo queste derivate e faccio vedere che la derivata a chesima è uguale alla somma corrisponde esattamente alla somma quando un modulo di p è uguale a d'a ci sta il blocco di queste ovviamente ci deve venire questa e se faccio questi sviluppi e faccio vedere che questo corrisponde a questo però per fare questo ci vuole una regola di derivazione della funzione composta per le funzioni più variabili cioè praticamente dobbiamo capire come si va a calcolare come si vanno a calcolare la matrice delle derivate prime per una funzione che va da rn in rm in generale quindi dobbiamo parlare dell'ovia copiante questo lo faremo dopo ci vuole un piccolo dilema che abbiamo ok comunque il concetto sarà questo sviluppare questo fa vedere che è uguale a questo sviluppare questa fa vedere che è uguale a questo punto quindi è un calco ma è un calco sicuramente a giù ora uno cosa potrebbe fare invece dico questo e poi facciamo pausa uno cosa potrebbe fare dice ma corrisponde questo a quello che hai scritto prima certo che corrisponde mettiamo k uguale a 2 allora modulo di più uguale a 0 chi è? l'unica derivata a 0 si fa la funzione quindi qua la mi viene f di x con 0 fa tutto quanto alla 0 che fa 1 mi viene f di x con 0 quindi modulo di più uguale a 0 viene f di x con 0 termine con più uguale a 1 l'abbiamo visto modulo di più uguale a 1 l'abbiamo visto viene gradiente di f di x con 0 scalare x di x con 0 termine con più uguale a 2 viene un mezzo a x con 0 x di x con 0 scalare x di x con 0 e poi vediamo che ci stanno se k è maggiore di 2 ci saranno anche altri è chiaro? oh quindi facciamo un piccolo riempito prima di fare pausa con una fatica non esagerata cioè si capisce che le funzioni i più variabili sono più complicate perché io ho più possibilità di derivare no? e quindi quando vado a fare derivate non c'è la derivata che basta ma c'è la derivata parziale si capisce che ci sono pure dei problemi perché vi ricordate il teorema del differenziale totale io non mi passa l'esistenza delle derivate parziali la funzione può anche non essere neanche continua quindi ci vuole qualcosa in più però se è c1 va bene allora questi problemi noi li risolviamo di volta in volta se vogliamo diciamo analizzare il comportamento della funzione usando le derivate fino all'ordine k basta che si è di classe ck se è di classe ck cioè un po' di più di quello che supponevamo in molti teoremi di analisi 1 noi diciamo esiste la derivata prima per esempio il teorema di Cauchin non supponevamo che la funzione fosse di classe c1 noi dicevamo soltanto la funzione è continua fin sul tutto l'intervallo chiuso ed esiste la derivata prima nei punti 3 basta se dicevamo che era c1 in tutto l'intervallo era molto di più no molto un po' di più qua per evitare problemi teorici noi quando prendiamo le derivate fino all'ordine k supponiamo praticamente sempre che siano anche così ok ci mettiamo in un aperto così non giochiamo manco problemi quando ci mettiamo su un chiuso sulla chiusura di un aperto andiamo a specificare qualcosa ma se no fino a che l'insieme aperto le funzioni sono di classe ck sappiamo che possiamo tutto il comportamento della funzione fino all'ordine k incluso dipende soltanto dal comportamento diciamo che l'ha fatto vicino a x con 0 localmente dipende soltanto dal fatto da conoscere f e conoscere tutte le sue derivate fino all'ordine k sta scritto qua chiara? se conosci anche che è ck più 1 puoi dire qualcosa pure puoi avere il resto in particolare però queste formule ci piacciono perché sono facissime a ricordare conoscendo te per l'analisi 1 questa formola abbiamo fatto vedere esplicitamente che è coincidita con questa quando k va da 2 perché perché è più utile sarà più utile per capire il comportamento della funzione quando andremo a studiare il comportamento della funzione vicino a un punto stazionale cioè dove il gradino si annulla vedremo che una condizione necessaria affinché un punto possa essere di massimo minimo relativo locale e sarà che il punto deve essere stazionale e poi quella espressione là se ci stanno delle funzioni di classe C2 ci farà capire quali possono essere delle condizioni sufficienti per avere un punto di massimo analogamente a quanto si faceva in analisi 1 solo che in analisi 1 molto spesso vi ricordate i compiti la derivata seconda non c'era nessun bisogno di studiare ok in due dimensioni perché vabbè ora era difficile fare la derivata seconda di una variabile non sarà più difficile fare la derivata seconda per una funzione di più variabile sì però è difficile pure fare le curve di livello per una funzione di più variabile mentre per una funzione di una variabile capire se la funzione per esempio se tu c'hai un massimo locale la funzione prima sa e poi scende quindi devi vedere solo che la derivata prima a sinistra è positiva a destra è negativa per esempio è già una condizione sufficiente affinché il punto sia di massimo no? prendi per esempio un valore assoluto prima scende poi sale anche se non è derivabile nel punto sai però sai che continua quindi in zero c'è un minimo senza stare a fare la derivata seconda diciamo se può chiaro in molti casi ve la cavavate studiando la derivata prima in un intorno del punto anche se magari nel punto stesso non c'è davanti la derivata qui qua è un poco più delicata la situazione perché perché geometricamente le curve di livello si possono incasinare parecchio quelle che abbiamo visto noi sono situazioni abbastanza standard cioè le curve di livello dei massimi e dei minimi saranno delle specie di ellissi deformate che si vanno a stringere vicino a un punto dove ci sta il massimo e il minimo invece le curve di livello dei punti serila saranno delle iperboli deformate che poi alla fine si stingono attorno a una x ok però poi la situazione è stata poi ci possono capitare tanti casi particolari in cui le cose sono ancora leggermente più complicate quindi io quello non lo posso esprudere quindi in molti casi può essere utile questo tipo di formula perché magari l'essiano si riesce a capire che ha una certa struttura e quindi che quella funzione in base studiando l'essiano in quel punto si sa che una matrice simmetrica si sa che per esempio un essiano farlo calcolare e valutare numericamente e far fare gli autovolori a matta per una fusione non è difficile e quindi tu già sai dagli autovolori dell'essiano in quel momento già sai se la condizione ha un massimo di un minuto se in molti casi non in un ma in molti casi chiaro? è utile una formula molto utile